Ben trovati all'ultima edizione del nostro telegiornale. Il futuro del servizio di emodinamica al veneziale di Isernia anima il dibattito politico regionale. Il nuovo POS, il piano operativo sanitario 2023-2025, proposto dalla struttura commissariale, prevede una razionalizzazione dell'intero sistema regionale. Nessuna chiusura quindi, ma la permanenza del servizio nei limiti delle prescrizioni ministeriali. Sul tema è intervenuto anche il presidente della regione, Francesco Roberti. Sentiamo il servizio di Pasquale Di Bello. Fine settimana rovente sul fronte politico, dove il tema della sanità ha monopolizzato il dibattito da sinistra a destra, oggetto trasversale della discussione, il futuro del reparto di emodinamica all'ospedale veneziale di Isernia. Dopo la pubblicazione della proposta di piano operativo sanitario 2023-2025 da parte della struttura commissariale, da più parti viene pronunciata la parola chiusura. Parola che a leggere il documento nessuno ha mai scritto, menché meno i commissari Bonamico e Di Giacomo, che seguendo le prescrizioni provenienti dai Ministeri della Salute, dell'Economia e Finanza e dell'Agenas, si sono orientati secondo un processo di razionalizzazione dell'intero sistema regionale che non ammette deroghe ed eccezioni. Prescrizioni, quelle romane, che nascono dal rispetto di criteri oggettivi finalizzati a tutelare la salute dei cittadini, tra questi, quelli del numero di interventi praticati all'interno di una struttura e la presenza continuativa di personale per tutte le 24 ore, per tutti i sette giorni della settimana capace di erogare in condizioni di massima garanzia e sicurezza la prestazione prevista, nel caso specifico quella di emodinamica per i pazienti infartuati. Isernia quindi non chiude, ma continuerà ad operare nei limiti derivanti dalla presenza di personale, al momento insufficiente a garantire turni sulle 24 ore, sette giorni su sette. Sarà invece il Cardarelli di Campobasso a fare da punto di riferimento per il Veneziale, laddove la struttura a Pentra non sia in grado di garantire il servizio in via continuativa. Altro criterio che ha determinato la scelta del Cardarelli come terminale anche per l'area Pentra nasce dalla distanza tra i due capoluoghi di regione percorribile in termini certamente più brevi rispetto a quelli necessari da termoli, dove il servizio di emodinamica al momento resta strutturato in maniera autonoma. Ciò detto, laddove dovessero cambiare le condizioni di contesto, le prescrizioni romane e la dotazione di personale medico, anche la partita di Isernia sarebbe destinata a riaprirsi in maniera completa. In questa direzione vanno anche le dichiarazioni del Presidente Roberti, che sempre con riferimento al caso di Isernia, assicura nelle sedi opportune l'impegno della politica verso una soluzione. Nessuna chiusura, quindi vale la pena di sottolinearlo, ma razionalizzazione secondo le indicazioni provenienti dai ministeri e dall'Agenas, l'agenzia speciale dedicata ai servizi sanitari. Il Molise, vale la pena di ricordare anche questo, è una regione commissariata, fattore dal quale non si può prescindere e al quale va ricondotto ogni ragionamento. Un grave incidente con tre feriti si è verificato sulla strada statale 652. Al confine tra Abruzzo e Molise sono intervenuti sia i vigili del fuoco di Isernia sia quelli di Castel di Sangro. I tre feriti sono stati estratti dalle autovetture e presi in carico dai sanitari del 118 e portati in ospedale. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti, vedete le auto distrutte nell'impatto e dunque rallentamenti al traffico anche per la presenza di numerosi turisti sulla strada. Un uomo, dalle prime informazioni, sembra un paziente di psichiatria, è precipitato dal secondo piano del Cardarelli di Campobasso dell'ospedale da una finestra e ha perso la vita. Immediati i soccorsi del 118, sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica, per l'uomo non c'è stato nulla da fare, però l'ipotesi più accreditata è quella del gesto volontario. Inaugurato oggi nell'aula colitto della Corte di Appello nel Tribunale di Campobasso l'anno giudiziario 2024. Il Presidente della Corte di Appello, Vincenzo Pupilella, ha relazionato sull'andamento dell'amministrazione della giustizia nel distretto del Molise, considerando il periodo dal 1 luglio 2022 al 30 giugno del 2023. Il servizio. L'andamento complessivo dell'attività giurisdizionale nel civile come nel penale ha confermato il ritorno a livelli di produttività soddisfacenti. È uno dei passaggi della relazione del Presidente della Corte di Appello, Vincenzo Pupilella, nel tracciare il bilancio dell'amministrazione della giustizia dal 1 luglio 2022 al 30 giugno 2023 nel distretto molisano, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in Tribunale a Campobasso. Prima il saluto ai tanti rappresentanti istituzionali, politici, regionali, parlamentari, ai magistrati, avvocati, ai procuratori, capi dei tribunali, alle forze dell'ordine. Quindi un passaggio sulla giornata della memoria e ricordo delle vittime dell'olocausto con un riferimento anche alle recrudescenze attuali alle guerre, altro accenno poi alle vittime delle violenze di genere, grave e piaga che va fortemente e prontamente contenuta anche con la nostra azione giudiziaria, ha detto Pupilella. ha poi sottolineato ancora una volta le carenze di organico tra magistrati e amministrativi. Si deve ancora una volta segnalare che per mani in tutti gli uffici giudicati a tribunali istituzionali, ad eccezione della locale procura generale della Repubblica, la scopertura del posto di dirigente amministrativo previsto nella piatta organica, con evidente incidenza negativa sul corretto svolgimento quotidiano delle attività appunto amministrative. E' ancora presto per apprezzare l'incidenza delle riforme in materia penale civile. La riforma, Cartabia, ha continuato il Presidente della Corte di Appello che ha sottolineato ancora aspetti positivi in campo civile come in quello penale. Ancora modesto ha aggiunto il ricorso alle pene sostitutive, in ogni caso diminuito l'arretrato civile che è uno degli obiettivi del PNRR, quindi l'auspicio di un'attività giudiziaria indipendente ed equilibrata. Il procuratore generale, facente funzioni Antonio Larana, nel suo intervento ha voluto ricordare il magistrato Fabio Papa scomparso quest'estate. Si è consentito un pensiero del ricorso di Fabio Papa, prematuramente scomparso lo scorso anno, quindi piace ricordare questa circostanza per le sue indiscusse capacità professionali. Poi ha fatto il punto sui reati. Il Molista è una situazione nella quale tutti gli uffici inquirenti riescono a smaltire più procedimenti rispetto a quelli che vengono iscritti ogni anno. Il fenomeno della criminalità organizzata è tranquillo, è sotto controllo, è molto modesta per quanto riguarda i dati comuni, sono tutti quanti in leggero decremento, a eccezione dei diritti contro il patrimonio. Fondamentale comunque il monitoraggio, in particolare degli andamenti economici, guardia sempre alta sullo spaccio, altro elemento di infiltrazione malavitosa. I furti sono in aumento e in decremento l'uso di droga. Evidenziati anche aspetti legati ai reati dei minori con i fenomeni delle baby gang, spaccio e maltrattamenti in famiglia, qualche giudizio anche critico sulla riforma della giustizia, si sono susseguiti gli interventi dei rappresentanti di CSM e Ministero della Giustizia, degli ordini degli avvocati, associazione, magistrati dei presidenti, delle camere penali di Campobasso, Iserni e Larino, Principe e Lacava e D'Aloisio e poi altri ancora. Oggi è la giornata della memoria per ricordare le vittime dell'Olocausto, serve l'impegno e lo sforzo di tutti affinché si possa costruire un futuro di pace, lo ha dichiarato il presidente della regione, Francesco Roberti, sottolineando che quelli di Ucraina e della striscia di Gaza non sono i soli conflitti oggi in corso nel mondo. Occorre parlare ai giovani, ha aggiunto Roberti, per far comprendere loro l'ingiustizia dell'odio e della guerra. Occorre rileggere quelle pagine di storie legate alla Shoah, al racconto di chi l'ha vissuta. Ciò che è accaduto a danno degli ebrei nella Seconda Guerra Mondiale, invece evidenziato il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, deve essere un monito eterno per gli uomini di ogni epoca affinché si abbia la consapevolezza di quanto l'odio razziale possa corrompere, imbruttire, barbarizzare la società. Ricordare la Shoah, ha concluso Pallante, un impegno di tutti per costruire un futuro di pace. E dunque oggi, la giornata della memoria, non dimenticare una follia collettiva, come la definisce Don Antonio di Lalla, parroco di Larino. Il sacerdote sottolinea come la fede escluda ogni forma di violenza, in modo particolare quella con cui si tenta di giustificare la superiorità di una razza sulle altre, come accade ancora oggi nei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, il servizio di Dalila Catenaro. In questa giornata di memoria collettiva internazionale, dobbiamo tutti quanti interrogarci su ciò che è accaduto, su tutto quello che le testimonianze dei sopravvissuti ci hanno narrato e su una delle pagine più cupe che i libri di storia ricordino. Il dolore, l'odio, il sangue innocente versato. Ne abbiamo parlato con Don Antonio di Lalla, che ci ha spiegato quanto quel dolore sia ancora vivo nei cuori di molte persone e che deve essere un monito per gridare al mai più. La Shoah testimonia un'immane tragedia che c'è stata nella nostra Europa. Purtroppo un po' di responsabilità ci fu anche nel cristianesimo, perché avevamo, come dire, dimenticato che Gesù Cristo è ebreo, la Madonna è ebreo, i primi martiri, gli apostoli erano tutti ebrei, per cui il cristiano non può assolutamente essere antisemita. L'antisemitismo è la negazione del cristianesimo. In quella follia collettiva c'è stato chi è riuscito a essere lungimirante, a capire che non si può uccidere una persona perché appartiene a un popolo o appartiene a una tribù. E naturalmente le vittime sono state tante. Noi qui in questa chiesa, grazie a una pittrice che per noi ha attualizzato le beatitudini, Anna Maria Erra, di origine argentina, che ha dipinto per noi anche questa immagine di Edith Stein. Edith Stein è una ebrea convertita, una grande intellettuale che da atea diventa cristiana e poi entra in un ordine religioso, deve allontanarsi dalla Germania ma poi verrà arrestata e assassinata in un campo di concentramento. Don Antonio ha contestualizzato quella tragedia con tutto quello che sta succedendo ancora oggi nel mondo. Doveva essere un mai più ma purtroppo la distruzione di popoli è accaduto ancora in Ruanda nella lotta tra Tutsi e Utu e è accaduto anche nella ex Jugoslavia. Non abbiamo ancora imparato che non è possibile discriminare le persone, assassinarle perché fanno parte di una stirpe, di una tribù, di un popolo. Ecco, naturalmente oggi noi assistiamo, anche se non si tratta di Shoah, ma assistiamo alla distruzione del popolo palestinese, di tutti gli abitanti della striscia di Gaza, distinguere fra ebrei e israeliani. Gli israeliani sono gli abitanti di Israele e i loro governanti purtroppo stanno facendo delle stragi che non hanno niente a che vedere con l'olocausto fatto da Hitler e dalle forze naziste. Intanto a Campobasso in mattinata c'è stata una breve cerimonia davanti all'abitazione nella quale ha vissuto Giovanni Tucci, internato molisano, nei campi di prigionia durante la seconda guerra mondiale davanti alla sua casa. Lo scorso anno era stata posta la prima pietra d'inciampo molisana. L'iniziativa erano presenti il segretario regionale della CGL, Paolo De Socio, i rappresentanti dell'AMPI, l'Associazione Partigiani e del Comune. L'evento hanno ricordato non è solo un momento per ricordare ma rappresenta anche l'occasione per riflettere sull'importanza dei valori della tolleranza, del rispetto reciproco e della pace, valori quanto mai attuali in un momento storico come quello che stiamo vivendo martoriato dalle guerre in molte zone del mondo. L'idea geniale fu quella di individuare un comune al di là della linea del fronte per cui fosse impossibile ogni controllo e poi quel timbro ovviamente falso. si salvarono così tanti giovani ebrei grazie appunto a documenti falsificati col timbro non proprio conforme del comune di Larino. La scoperta dell'episodio si deve a Giuseppe Mammarella, responsabile dell'archivio storico diocesano di Termoli Larino attraverso le gesta di Don Arrigo Beccari, il religioso che salvò i ragazzi ebrei nascosti a Villa Emma a Nonantola. Spacciava droga mentre era ai domiciliari blitz dei carabinieri in un appartamento di Termoli, arrestato un giovane di 30 anni, i carabinieri hanno sequestrato un chilo e mezzo di ascisce, 100 grammi di cocaina. Sentiamo Andrea Nasillo. Gli appostamenti dei carabinieri erano ormai quotidiani, avevano capito che in quella casa ci fosse uno spacciatore, un giovane di 30 anni ai domiciliari che però riforniva ancora la piazza. Quando i militari sono intervenuti il pusher stava cedendo a una donna di 40 anni cocaina e hashish per 70 euro. Un blitz in piena regola, immediata la perquisizione non solo personale, diversi carabinieri sono entrati nell'appartamento, all'interno hanno trovato 14 panetti di hashish di quasi un chilo e mezzo, 100 grammi di cocaina, materiale vario per il confezionamento degli stupefacenti e 790 euro in contanti, verosimile provento dell'attività di spaccio. La droga è stata sequestrata in attesa delle analisi di laboratorio. Il giovane è ora in carcere a Larino, la quarantenne segnalata alla prefettura. Questa operazione si aggiunge ad altre delle ultime settimane svolte sulla costa dai carabinieri che hanno arrestato quattro persone, due denunciate e segnalati cinque consumatori sotto sequestro, circa due chili e mezzo di hashish, 110 grammi di cocaina, tre di marijuana e 1800 euro. Condannato per usura, Isernia e i carabinieri gli hanno confiscato un terreno. La vicenda risale al 2010 quando, a conclusione di un'indagine della procura di Isernia, furono arrestate quattro persone per estorsione e usura. Il nucleo investigativo dei carabinieri di Isernia ha svolto accurate indagini economico-patrimoniali nei confronti degli imputati allo scopo di individuare consistenze idonee a risarcire i danni. In questi giorni, dopo la condanna in tribunale, i militari dell'arma hanno proceduto alla confischia e all'attribuzione al patrimonio dello Stato di un terreno che era nelle disponibilità di uno dei condannati. Non si ferma la protesta degli allevatori e agricoltori molisani che restano in presidio con i loro trattori sull'area di sosta di San Giovannello a Campobasso. Una delegazione è stata ricevuta in mattinata nella sede dell'Aggiunta regionale dall'assessore Micone che ha ribadito la necessità di salvaguardare la tipicità delle nostre produzioni. Sentiamo gli agricoltori e allevatori molisani si sposta davanti alla sede dell'Aggiunta regionale. I trattori restano fermi in presidio a Campobasso nell'area di sosta di San Giovannello. Nel frattempo una delegazione di manifestanti è stata ricevuta dall'assessore Micone. C'è preoccupazione per il futuro dell'agricoltura molisana già ammessa a dura prova da una crisi che va avanti da anni. I nuovi provvedimenti adottati dall'Europa rischiano di dare il colpo di grazia. Le richieste sono più che altre rivolte oltre all'assessore Micone che diciamo è responsabile in parte dei nostri problemi di questo momento più verso l'Europa. Vogliamo rappresentare questo in primis all'assessore Micone che si faccia da portavoce a livello nazionale e altrettanto poi a livello nazionale farsi portavoce in Europa dei grossi problemi che ha l'agricoltura in generale. Parliamo di questi problemi anche perché la protesta sta dilagando in tutta Europa, in Francia, Germania ma anche in Italia. Quali sono i problemi principali? Il problema principe diciamo noi è soprattutto il Green Deal, cioè essere tacciati come quelli che inquinano l'ambiente e noi ne dobbiamo pagare le conseguenze lasciando le nostre aziende incolte fra poco perché a queste condizioni siamo costretti tutti a chiudere. Da quello parte un po' tutto perché non possiamo essere accusati che noi siamo quelli che inquiniamo l'ambiente, noi siamo quelli che tuteliamo l'ambiente, siamo quelli che salvaguardiamo l'ambiente. Chi meglio di noi vuole applicare un'agricoltura sostenibile lo sappiamo e lo vogliamo fare, però ci devono mettere in condizioni di farlo. Gli aumenti di costi di produzione, non solo di carburanti, di fertilizzanti, di pezzi di ricampio, oramai è diventato tutto incontrollabile. Noi non siamo più padroni delle nostre coltivazioni. Voi pensate che anche questa direttiva che riguarda la carne sintetica oppure l'utilizzo di farine di origine, cioè di insetti, anche questo potrebbe secondo lei coinvolgere le vostre aziende? Certamente, soprattutto questo. A discapito dei nostri prodotti genuini, l'Italia ha chiesto in Europa e al mondo che la cucina italiana diventi bene immateriale dell'UNESCO quando poi portiamo sulle nostre tavole le farine di insetto, la carne sintetica e quant'altro, trascurando le nostre produzioni tipiche. Per cui noi facciamo un appello soprattutto al governo italiano affinché possa difendere le nostre tipicità che sono uniche al mondo. Le polemiche sull'autonomia differenziata votata in Senato anche dai senatori delle regioni meridionali difendono il provvedimento i due parlamentari molisani Claudio Lotito e Costanzo della Porta. Nessuna diseguaglianza rispettato il principio costituzionale. Sentiamo Giovanni di Tota. Sono stati tacciati di antimeridionalismo nel migliore dei casi. I senatori di centrodestra eletti nelle regioni del sud non ci stanno e replicano a chi li accusa di aver spaccato l'Italia e accettato la secessione approvando il disegno di legge Calderoli. Il principio che sta alla base dell'autonomia differenziata è un principio di solidarietà. Non è un principio di divisione, non è un principio di spereguazione, ma è quello di consentire a tutte le regioni di avere dei livelli assistenziali di qualità e che rappresentano il valore dell'unità nazionale e che possono, come dire, mantenere in piedi l'impalcatura complessiva del sistema attuale sulla base di un semplice decentramento perché Forza Italia vigilerà con tutti i propri mezzi per far sì che ciò rappresenti un'occasione e un motivo di crescita e non un motivo di divisione. La sigla chiave utilizzata da chi difende l'autonomia è l'EP che sta per livelli essenziali di prestazione, un provvedimento che fa da appendice alla legge Calderoli e che deve essere ancora tarato, che si allinea al dettato costituzionale sul principio di uguaglianza. Tra i relatori anche Costanzo della Porta che proprio sui LEP argomenta e garantisce che le regioni del sud non patiranno nessuna diseguaglianza. Fin dall'inizio, ha spiegato il senatore di San Giacomo degli Schiavoni, è stata chiara la volontà di emendare in modo significativo la legge Calderoli su tre pilastri, unità e coesione nazionale, ruolo del Parlamento e assistenza per le regioni svantaggiate. Si chiama Alfredo De Renzis ed è un medico di base di Carovilli, il primo ad essersi sottoposto al vaccino anticancro dell'Istituto Tumori Pascale di Napoli. Un orgoglio molisano lo ha intervistato Davide Gambardella. Dottor Alfredo De Renzis, lei è il primo ad essersi vaccinato contro il cancro, originario di Capracotta, medico di Carovilli, due figli, 71 anni e ha voluto portare il suo contributo alla ricerca. Sì, quando mi è stato proposta questo protocollo di terapia sono stato un po' titubante all'inizio ma poi non ho avuto dubbi nell'accettare questo incarico. Come ha trovato l'equip del Pascale ad accogliere l'app? Sì, è un clima molto favorevole, molto familiare, anche gli infermieri sono molto alla mano, il professore mette tutti a suo agio, per cui è un bel clima che si respira lì al Pascale. Mi fa piacere entrare nella storia in un certo senso? Sicuramente sì, io spero soltanto che sia efficace e che io alla fine ne venga fuori da questa malattia. Lei sta combattendo questa malattia, il suo messaggio di speranza da medico e anche da persona che combatte? Sicuramente sì, è un messaggio di speranza, è il mio anche in basse agli studi e a quello che mi diceva il professore Scierto. Si tratta di una terapia che diminuisce di circa il 40% le possibilità di recidiva, per cui oltre alla immunoterapia arriviamo quasi al 70-80%, è una bella cifra questa. Il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Campobasso Alberto Tramontano è intervenuto sulla manutenzione delle strade nel capologo parlando di iniziative inaccettabili contro ogni senso estetico e ogni regola di buon governo. L'ultima iniziativa dell'amministrazione 5 Stelle ha detto consiste nell'aver asfaltato per intero un marciapiede di via Mazzini, una delle arterie più importanti e in vista di Campobasso. Tutto ciò, ha continuato, Alberto Tramontano accade in modo ormai sistematico nell'indifferenza generale. Ad Agnone sono stati presentati i punti salienti del dossier che sarà illustrato il 4 marzo al Ministero della Cultura. il Comune Alto Molisano si proietta così verso il rush finale l'investitura di Capitale Italiana della Cultura 2026. Sentiamo ancora Davide Gambardella. Il prossimo 4 marzo il dossier Fuoco Dentro, margine al centro, che proietta Agnone verso la fase finale per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2026 sarà presentato al Ministero della Cultura ed intanto nel Comune Alto Molisano sono stati illustrati i punti salienti del documento. Cinque temi affrontati nel dossier legati alle tradizioni agnonesi, ma anche alle aree interne che devono ripartire dal proprio patrimonio immateriale ed anche dalle tradizioni artigianali e della gastronomia. Un ritorno all'origine per ridare fiducia, speranza a quei 6.000 comuni che costituiscono la dorsale appenninica. E io credo che Agnone possa rappresentare degnamente tutte queste comunità, appunto tornare a quella vita lenta, a quella vita profonda che si può vivere benissimo in questi territori. Agnone con il suo fuoco dentro si fa così portavoce di tutti quei territori marginali che rivendicano una ribalta nazionale. Anche nell'ultimo intervento Papa Francesco ha proprio rimesso al centro dell'agenda sociale e quindi anche politica questi territori che vedono lo spopolamento, che vedono la denatalità, che vedono l'invecchiamento. Quindi forse la frenesia degli ultimi 100 anni, dei fenomeni dell'industrializzazione, della globalizzazione, deve far tornare a quella umanità vera che c'è ancora in questi territori. E noi credo che lo abbiamo fatto bene in questo dossier che la professoressa Bindi ha elaborato insieme a tutto il comitato promotore, a tutta una serie di attori istituzionali. Siamo fiduciosi, diciamo che bisogna credere ai sogni, bisogna accettare le sfide che quotidianamente ci pone la vita in questi territori e quindi noi ce la vogliamo giocare fino alla fine. Speriamo di essere vincitori. Torniamo a parlare della giornata della memoria, l'occasione per ricordare anche una figura sconosciuta a tanti che proprio qui in Molise negli anni del confino trovò la possibilità di rispondere con la sua arte, con la sua sensibilità agli orrori della guerra all'architetto Davide Pakanoschi. Ce ne parla Giuseppe Carriera. La vicenda umana e professionale di Davide Pakanoschi, architetto polacco di nascita ed ebreo di religione, è legata a doppio filo con il Molise. Un punto di partenza lo potremmo individuare in questo edificio, il Palazzo di Penta, detto anche transatlantico, che nel finire degli anni 30, nel centro di Campobasso, prende il posto del villino appartenuto a Giuseppe Altobello. Questo è un edificio di epoca razionalista, è un fabbricato che seppur innovativo per i materiali e per la ricerca nel linguaggio architettonico, ripropone poi anche canoni stilistici che sono quelli dell'architettura classica. Infatti è costituito da una parte basamentale, il cosiddetto attacco a terra, che potete vedere rifinito in pietra, poi c'è il corpo, quindi la parte in elevazione, che è alleggerito sia dalle terrazze che segnano orizzontalmente la facciata del fabbricato, nella parte principale, chiusa lateralmente da due elementi invece molto più compatti e terminato il coronamento con una struttura inizialmente molto più leggera di quella che oggi vediamo, quasi volesse, diciamo, pian piano il fabbricato acquisire leggerezza e trasferirsi verso il cielo. Pacanoschi arriva in Molise grazie alla forte amicizia con Antonio Di Penta, suo compagno di corso al Politecnico e componente della famiglia di Ripa Rimosani, attiva nel settore costruzioni già un secolo fa. Era specializzato, diciamo, nell'utilizzo del cemento armato, erano gli anni in cui sostanzialmente si puntava alla sperimentazione, era un materiale quindi che consentiva grandi possibilità rispetto alle murature che erano state utilizzate fino a quel momento e lui era un abile sperimentatore, si era formato anche all'estero, aveva avuto collaborazioni con le Corbusier e la sua formazione al Politecnico di Milano è stata sicuramente significativa per la concezione di questo fabbricato. Arriva il 1942 per molti ebrei, la strada è quella del confino del regime del libero internamento. Anche il giovane architetto viene ristretto a Sepino, ma qui, più che patire una prigionia, stabilisce un legame forte con il popolo. È venuto a Sepino nel febbraio del 1942, nel 1950 gli viene conferita la cittadinanza onoraria, successivamente, questo molti anni dopo, nel 2006, addirittura gli viene intestato una strada qui di Sepino. Le opere lasciate da Paganoschi in Italia sono tantissime, ma nella sua lunga carriera non abbandonò mai l'interesse per Sepino. Firmò idee progettuali e linee di indirizzo. Fu tra i soci fondatori della Prologo e non solo. I segni che ha lasciato Paganoschi sono tra l'altro legati, per esempio, alla nostra zona archeologica. Lui, insieme al professor Maiuri, ha contribuito agli scavi archeologici. Poi ha redatto qui da noi il programma di fabbricazione ed aveva fatto un progetto per l'ampliamento del cimitero di Sepino. Il diario di Sepino dell'epoca narra che Davide Paganoschi uscisse spesso, la domenica soprattutto, in piazza Nelazio Prisco per donare caramelle ai bambini. Si dice che Paganoschi uscisse in giro nella piazza, qui nelle strade di Sepino, sempre con un sacchetto di caramelle. Addirittura aveva abituato i bambini a rincornerlo proprio perché lui distribuiva caramelle ai ragazzini e aveva nei confronti di questi bambini un amore e una disponibilità che probabilmente oggi non si riscontra tantissimo in giro. Le caramelle e i sorrisi dei bambini degli anni 50, lieto finale di una pagina di quel morise del dopoguerra in cui il giovane architetto piangeva allo sterminio della sua famiglia di origine nei campi di concentramento del nord Europa, mentre il popolo, che l'aveva accolto, gli tributava un ideale abbraccio. E in chiusura di Telegiornale vi proponiamo il contributo dell'Università Telematica Mercatorum diretta da Giovanni Cannata per la giornata della memoria. Vediamo. Questo è Palazzo Costa Aguti. Siamo nell'antico quartiere ebraico di Roma. Qui, durante la razzia del 16 ottobre 1943, alcune famiglie del quartiere trovarono rifugio e salvezza dai soldati tedeschi che avevano il compito di arrestarle. Se le avessero prese, sarebbero finite ad Auschwitz come le altre centinaia di ebrei catturati quel giorno a Roma. I marchesi Costa Aguti, Achille e Giulia, rifiutarono di far entrare i soldati all'interno del palazzo. I loro nomi si trovano iscritti nel Giardino dei Giusti di Yad Vashem, a Gerusalemme. Qui oggi ha sede l'Università Telematica Mercatorum e da qui abbiamo pensato di offrire il nostro contributo per il giorno della memoria 2024. Vogliamo farlo oltre che raccontando questo piccolo pezzo di storia attraverso le parole di una delle più grandi scrittrici del Novecento, Elsa Morante. Nel suo romanzo La Storia, uscito esattamente 50 anni fa, l'antisemitismo dell'Italia fascista e la Shoah italiana hanno uno spazio molto importante. Tra le 660 pagine del libro io ho scelto di leggere queste parole. Qui si racconta di quando, mesi dopo la deportazione dell'ottobre 1943, Ida Ramundo tornò al quartiere ebraico, ormai deserto e svuotato della vita precedente. Erano esattamente 80 anni fa. Eccola di nuovo allo spiazzo con la fontana. La fontana era secca. Dalle loggette e dai ballatoi dei crepiti della viunza spiovevano le piante morte. Ai piani delle casupole non c'era più il solito imbandieramento di calzoncini, fasciole e altri cenci stesi ad asciugare. Quella dai ganci esterni ne pendevano tuttora le corticelle spezzate. E qualche finestra aveva i vetri rotti. Dall'inferriata di un terraneo, già adibito a rivendita, si intravedeva il locale umido e buio, spogliato del banco e delle merci, e invaso da ragnatele. Dei portoni qualcuno pareva sbarrato, ma altri, sfondati nei saccheggi, erano appena accostati o semiaperti. Ida spinse un portoncino scassinato a un solo battente e lo riaccostò alle proprie spalle. Dapprima la sorprese un silenzio irreale del luogo. E in questo i suoi orecchi ronzanti dai digiuni incominciarono a percepire delle voci. Pronunciavano distintamente delle frasi, ora esclamative e ora distese, però tutte di ordinaria banalità, quasi spezzoni raccoglitici della vita comune di ogni giorno. Le voci nei suoi orecchi, prima di spegnersi, presero a riecheggiarsi a vicenda, accavallandosi in un ritmo tumultuante. E in questa loro fretta pareva di avvertire un senso orribile, come se i loro poveri pettegolezzi si esumassero da un'eternità confusa in un'altra eternità confusa. Senza sapere quel che dicevano e perché Ida si trovò a mormorare da sola, col mento che le tremava come ai bambinelli sul punto di piangere. Sono tutti morti. Lo disse con le labbra, però senza voce quasi. E a questo mormorio, dentro il silenzio, avvertì un peso, come il piombare di uno scandaglio acustico, nella sua memoria. Ed è per la memoria, in questo giorno dedicato, ma nella convinzione che ogni giorno sia giusto per la conoscenza e per la storia, che la nostra università ha voluto produrre a questo piccolo contributo, da un luogo della storia del passato, nella speranza del presente e del futuro. È tutto, termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale.